Fisicamente oggi l'abbiamo risentita tanto perché a un certo punto non abbiamo più retto e quindi loro sono riusciti a andare avanti, a segnare, invece noi non avevamo più la testa perché eravamo un po' stanche e quindi l'abbiamo perso. Esatto, speriamo che oggi riusciamo, adesso stiamo tornando in albergo a riposare un po', poi ho già le 6, giochiamo e speriamo almeno di centrare la quinta.